Inizia la sezione media. Sofia Gugliotta della quinta B grafica presenta il talk dal titolo L'impossibile diventa possibile. Quando collaboriamo l'impossibile diventa possibile. Ogni giorno usiamo svariati oggetti più o meno complicati. La penna biro, la cernira lampo, le forbici, lo smartphone e certamente disponiamo di conoscenze tecniche superiori rispetto ai nostri genitori o alle generazioni precedenti. Ma è proprio così? Se vi chiedessi di spiegarmi il funzionamento di un paio di forbici, pensate che sareste veramente in grado di farlo? Le forbici sono basate su una doppia leva di primo genere, il cui fulcro risiede sul perno centrale. Per aumentare il vantaggio meccanico, riducendo lo sforzo necessario, occorre posizionare il materiale da tagliare il più vicino possibile al perno stesso. Come potete vedere, anche l'uso di cose semplici richiede conoscenze complesse. Per spiegare bene il funzionamento di un paio di forbici, occorre quantomeno padroneggiare delle conoscenze di fisica. E forse, a mio avviso, stiamo sopravvalutando la nostra comprensione di come funzionano le cose. Se non abbiamo conoscenze sufficienti per spiegare il funzionamento di cose semplici, pensate addirittura come saremmo in difficoltà se dovessimo spiegare l'uso di cose più complesse, come gli oggetti tecnologici o i fenomeni naturali come gli uragani. Rebecca Lawson, una ricercatrice dell'Università di Liverpool, ha sottoposto ai suoi studenti un disegno schematico di una bicicletta e ha chiesto loro di completarlo. I studenti hanno svolto con facilità il test e questi sono alcuni dei loro risultati. Questo test dimostra non soltanto che le nostre conoscenze di oggetti familiari sono frammentarie e oserei dire anche superficiali, ma che non siamo consapevoli della nostra ignoranza. Questo comportamento è stato denominato dai psicologi cognitivi illusione della profondità esplicativa. In pratica ci ludiamo di essere meno ignoranti di quanto siamo realmente e in questo modo riusciamo a non essere sopraffatti dalla complessità della realtà. L'illusione della conoscenza spesso ci porta ad avere comportamenti spavagli o sconsiderati, come quando, convinti di essere in grado di riparare un rubinetto, finiamo per allagare la cucina. Oppure facciamo un investimento finanziario rischioso, pur non conoscendo le flessioni del mercato. Tuttavia, l'illusione della conoscenza può anche essere vantaggiosa. Il 9 novembre 1989, Gunther Szabowski, il portavoce della Repubblica Democratica tedesca, durante una conferenza stampa, annunciò che il governo aveva deciso l'allentamento delle regole per l'espatrio per i cittadini della Repubblica Democratica tedesca. Szabowski non era stato presente all'incontro e non aveva letto neppure il comunicato. e quindi, incalzato dai giornalisti, si mostrò impreparato e confuso e finì per affermare che da quel momento in poi i cittadini della Germania Est potevano attraversare liberamente i territori della Germania Ovest. Quella dichiarazione lasciò tutti stupefatti, ma di fatto era sbagliata. Egli, infatti, doveva solamente affermare che da quel momento in poi i cittadini della Repubblica Democratica tedesca potevano chiedere dei nuovi permessi speciali per entrare nella Repubblica Federale tedesca. Quella sera stessa migliaia di abitanti si ammassarono nei pressi del checkpoint di Berlino e costrinsero i soldati ad aprire i confini. Il 9 novembre 1989, come penso tutti voi sappiate, è ricordato come il giorno in cui cadde il muro di Berlino. Questa è una dimostrazione di come l'illusione della conoscenza possa essere determinante anche per le grandi svolte della storia. Con questo non intendo affermare che l'ignoranza sia una risorsa, ma non deve necessariamente essere una disgrazia. D'altra parte, l'ignoranza è la nostra condizione naturale, dato che nessun individuo è in grado di padroneggiare la complessità del mondo. Ma allora viene da chiedersi, com'è possibile che siamo riusciti a sviluppare società e tecnologie così complesse nonostante la nostra ignoranza sia così smisurata? Gli scienziati cognitivi Steven Sloman e Philip Pernbach affermano che le grandi conquiste che hanno segnato il progresso dell'umanità, dalla capacità di dominare il fuoco alle esplorazioni spaziali, sono il prodotto di una comunità della conoscenza. Fin dalle origini c'è stata fra gli individui una divisione del lavoro cognitivo. In pratica le persone hanno sviluppato specifiche competenze per cui se nessuno è in grado di fare tutto, ognuno partecipa alle conoscenze e alle competenze della comunità. La natura collettiva spiega perché supponiamo di sapere più di quanto realmente sappiamo. La nostra intelligenza infatti non risiede nei singoli cervelli, bensì nella mente collettiva. Per operare gli individui non si basano solo sulla conoscenza contenuta all'interno delle proprie teste, ma anche quella contenuta altrove, nei nostri corpi, nell'ambiente, ma soprattutto nelle altre persone. Ecco, le persone, le persone le definirei come delle api e la società come un alveare. Le nostre menti collaborative ci hanno permesso di fare cose incredibili. Mi vengono in mente le cattedrali gotiche, la scoperta del DNA, il web, internet. Ecco, a questo proposito vi vorrei citare due importanti personaggi che tutti penso conosciate. Bill Gates e Steve Jobs. Bill Gates e Steve Jobs sono stati gli uomini che più hanno contribuito allo sviluppo della tecnologia a livello mondiale. Il successo della Apple è sicuramente legato al talento di Steve Jobs, non lo metto in dubbio, ma sarebbe stato impossibile senza la collaborazione di esperti di diverso settore. Ve ne voglio nominare qualcuno. Steve Wozniak, cofondatore della Apple Computer e della Apple One. Bill Fernandez, che è stato il primo dipendente della società e anche inventore dell'interfaccia utente. Jeff Raskin, che è stato colui che sviluppò il progetto e ne inventò il nome. Mike Markula, che versò nelle casse della società ben 250.000 dollari. Il programmatore Bill Harkinson, che sviluppò l'interfaccia grafica. Dean Ove, che progettò il mouse. E i designer Jonathan Eve e Tim Cook. D'altra parte, la rivalità tra Gates e Jobs è leggenda, dato che i due hanno condiviso molto in termini di innovazione. Nel 1981, Apple, all'epoca guidata da Jobs, chiese a Microsoft di sviluppare un software per i computer Macintosh. Ed è grazie a quella condivisione che Microsoft sviluppò Windows. Una volta che abbiamo compreso che la conoscenza è condivisa all'interno di una comunità, i nostri eroi cambiano. Non ci concentriamo più sul singolo individuo, ma iniziamo a considerare il gruppo. Una volta che prendiamo atto che la conoscenza è condivisa all'interno di una comunità, allora dobbiamo ridefinire anche lo stesso concetto di intelligenza. L'intelligenza, infatti, non è un attributo personale, ma si manifesta quando l'individuo contribuisce con il suo apporto alle soluzioni generali dei problemi del gruppo. Vorrei concludere adesso dicendo che nessuno, ma dico nessuno, è mai stato in grado di fare tutto e per questo collaboriamo, per rendere possibile ciò che sembra impossibile. Grazie. 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 Grazie.